Guardo, insomma, io ne ho visti tanti di scontri in piazza tra polizia e manifestanti di ogni parte politica. Questa è una manifestazione di persone, non so se tutte, perché secondo me lì dentro c'è un po' di gente che strumentalizza politicamente questa giusta disperazione. Però se poi la disperazione degenera, io vedo il Capitol Hill del 6 gennaio, c'era pure quel vichingo che non so se era lui o un emulo del vichingo americano. E quindi penso a ristoratori che sono disperati, ma penso anche a un agglomerato di persone di estrema destra. E allora vorrei capire che cosa ne pensa Salvini, visto che è stato anche ministro dell'interno, di questa cosa qui. Se è d'accordo con la protesta e anche quel minimo di scontri, oppure se pensa che la polizia dovesse intervenire più energicamente o se va bene così. Io per l'altro continuo a vedere ovviamente mascherine abbassate, poi adesso è davvero una situazione nella quale vediamo il vichingo nel frattempo. Scusatemi, ma sono pacifici, sono pacifici, cioè in paragone con Capitol Hill non mi sembra assolutamente il caso. No no, veniva in mente a me, per prima è venuta in mente per il vichingo, per quel copricapo che abbiamo conosciuto lì, ma solo per quanto mi riguarda mi aveva evocato quell'immagine lì. Beh, sono volate un po' di bottiglie, per il resto io credo che quelli che hanno provato a sfondare Massimo non abbiano fatto un buon servizio a tutti gli altri che lo stiamo dicendo all'inizio oggi della puntata. Hanno tutto il diritto di essere preoccupati per il loro futuro e anche di manifestare e di chiedere di essere aiutati. Ripeto però, però ripeto, scusami Tiziano, se per un anno tu ti sgogli a dire delle cose e nessuno ti prende in considerazione, poi è quasi inevitabile che qualcuno garda un po' la testa. E non mi sembra che abbiano fatto assolutamente niente di clamoroso fino a questo momento, ho visto anche gente con le braccia alzate, non mi sembra che ci sia una situazione di particolare violenza. C'è stata un po' di tensione, ma io e Riccardo siamo vecchi del mestiere, abbiamo visto ben altro e il tentativo francamente, scusami Riccardo, di politicizzarla sempre, secondo me è sbagliato, perché questa è veramente gente che non lavora. Ragazzi non lavorano, non lavorano da un anno. Il vichingo l'ha politicizzata il vichingo, Massimo l'ha politicizzata il vichingo. Eh non basta un vichingo per politicizzare una manifestazione, lo sei dentro. Ci sono tanti vichinghi sotto mentite sfoglie lì dentro, perché è evidente che è una manifestazione. Eh lo vedo, lo vedo, lo vedo. Come fai a dirlo? Ecco il vichingo con le corda del vichingo. Allora perdonatemi, ma io ho un tassativo, ovviamente noi continuiamo a seguire.